sono bruciato l'esofago credo questo pure questo cominci dall'altro che non è così lo leviamo e poi ci prendiamo allora vai cominciare così tirati una linea sopra poi te lo tiri un poco di lato così e così poi fai la stessa cosa qua così poi diviene questo sporco qua questa è troppo trasparente quindi uno c'è la paura c'è la paura c'è la paura così così riescono i colori che ci hai messo sotto al nero prima vedi mi riescono totalmente bianco alla fine poi dipende uno te lo puoi lasciare così oppure magari tipo le finestre che viva la macchina questi cose qua così no worry no 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 insomma c'è un buon casaccio alla fine bello si facciamo un mare così tu parti stretto e poi ti allarghi più sotto si puoi farlo in modo che ti sa più e poi ti puoi allarghi un po poi ci mancherebbe il ponte diciamo il ponte se uno lo vede uno fatto si potrebbe fare però io il ponte di New York c'ha c'ha l'ora ma prima che è più grande così poi dovrebbe andare tanto è così solo c'è un tutorial che ha fatto si se ne stanno diversi ma quelli che ho trovato nessuno è talmente buono io qualche anno fa ne ho visti uno buono è più grande so Grazie a tutti.